Il nostro viaggio astigiano prosegue oggi nella prima cintura di Asti, nella strada verso Alba. Qui con me abbiamo Domenico. Domenico, buongiorno, buon pomeriggio. Siamo circondati da tantissimi capi di razza piemontese, un allevamento importante. Quanti capi abbiamo e come sono suddivise, quante vacche, quante fattrici? Abbiamo più o meno un centinaio di capi su cinquantina di fattrici e 45-50 vitelli che nascono fuori. I vitellini vengono 4-5 mesi sotto le vacche che prendono latte, nel frattempo li svezziamo e poi li portiamo su nella stalla all'ingrasso, dove lì si inizia la fase di ingrasso per poi la macellazione. Ecco, questo allevamento qua è circondato da tanti prati, da superfici verdi perché le mucche con i vitelli sono al pascolo tutti i giorni. Avete delle coltivazioni a rotazione ma avete anche il ciclo chiuso perché producete anche altri alimenti. Qui come vedete la collina è una volta ravigna, noi abbiamo trasformato l'azienda facendo tutto prato da pascolo e facciamo anche, attorno all'azienda abbiamo una quindicina di ettari, tutti recintati, dove svolgiamo, pratichiamo il pascolo tornato. Poi abbiamo anche i seminativi dove anche lì abbiamo fatto un cambio di cultura, facciamo il mais perché il 70% dell'azienda è a prato, tra stabile e prato da pascolo. Il rimanente 15% dell'azienda, il 30% e il 15% è a mais per avere il cereale per dare agli animali. L'altro 15% sono due anni che noi seminiamo gli erbai foraggeri. Che non è una scelta casuale, perché avete fatto questa scelta? Allora, innanzitutto veniamo quest'anno, è la terza annata che se va avanti così non sappiamo cosa produciamo. Come prati. Primo, prato stabile. Almeno con gli erbai foraggeri portiamo a casa un po' di fieno da portare, da dare, da mangiare ai nostri animali. Seconda cosa, sì che noi con gli animali abbiamo letame da concimare ai campi, però mettendo gli erbai foraggeri con le leguminose sono anche azoto fissatrici. Praticamente se c'è il pezzo di terra che non hai a sufficienza di letame, l'azoto lo prende dalla leguminosa che è stata seminata. E questo comporta anche un risparmio in termini di interventi, di passaggi? Porta un risparmio, uno, in spese culturali. Seminando gli erbai foraggeri e anche gli erbai per fare poi l'insilato per gli animali si viene a spendere meno della metà perché costa già metà come seme. Poi la concimazione e il diserbo non vengono dati. Un altro risparmio è il risparmio del gasolio. E noi nella nostra azienda, oggi come oggi, risparmiamo il 60-70% di gasolio. E che non è poca cosa. No, perché è il prezzo che ha. Prima dicevamo che di questi 90-100 capi al 50% sono fattrici e tu, strada facendo, l'esperienza ti ha insegnato a ricorrere a una tecnica particolare di fecondazione. Qual è? Noi qui pratichiamo tutta la fecondazione artificiale. Usiamo esclusivamente tori di prova di progenia che sono tori che escono mensilmente dal centro di Carrù della Naborapi dove noi siamo iscritti. 3-4 dosi di seme per ogni toro. Lo uso sulla vacca sempre guardando la consanguineità. Ci sono innanzitutto più accrescimenti, seconda cosa attecchiscono di più. E l'altra cosa è che io faccio la doppia fecondazione. Praticamente se la vacca la vedo andare in calore al mattino, la fecondo mattino e sera. Oppure al contrario, sera e mattino. E c'è un attecchimento del 90-95%. Ecco, vediamo che ci sono tanti capi ma anche qualche vitellino che poi poco per volta si allungheranno fino in cima alla collina. Ecco, gli ultimi nati che lettera sono? Come si chiamano? Uno è Iride e l'altro è Istrice perché tutti gli anni essendo iscritti alla Naborapi in selezione c'è una lettera. Dobbiamo dare i nomi ai vitelli che nascono con una lettera. Quest'anno siamo nella I e dobbiamo chiamarli fino a fine dicembre con la I. Qua siamo nella stalla dove ci sono invece i capi all'ingrasso. Prima mi dicevi che hai sperimentato zero vaccinazioni. Quali sono stati i passaggi? Proprio un passaggio drastico perché prima noi avevamo le vacche in questa stalla qua e si vaccinava per l'influenza i famosi vaccini quadrivalenti. Poi però dal mese di fine ottobre andare a gennaio il veterinario non te lo toglievi più dalla stalla perché le influenze, i polmoniti. Quando abbiamo fatto la scelta di mettere le vacche fuori abbiamo smesso di vaccinare. Malattie zero, non abbiamo più nessun animale vaccinato. Noi il veterinario lo chiamiamo proprio solo quando dobbiamo fare un parto cesare o un parto difficile. Sono perfettamente in salute e quindi il passaggio successivo è quello che invece vede il coinvolgimento in azienda della moglie Marta e della figlia Cristina e quindi adesso andremo nel laboratorio. Allora siamo qua con Cristina. Cristina ha frequentato l'agraria, poi hai fatto dei corsi di specializzazione e a un certo punto nella tua vita hai deciso che questo era il tuo lavoro. Di che cosa ti occupi qui nell'allevamento? Allora praticamente io mi occupo della lavorazione e trasformazione della carne, facciamo pacchi famiglia su prenotazione, il vitello va alla macellazione, a noi arrivano i quarti e facciamo il disosso, la sezionatura e tutti i pacchetti divisi secondo le prenotazioni. Quindi i pacchi famiglia come funzionano? C'è un prenotano, c'è un sito, sono clienti abituali? Noi abbiamo un sito internet, però la maggior parte sono clienti che praticamente sono nella zona, poi tramite il passaparola si sono affezionati a noi e continuano a comprare sempre la carne da noi ed è un sistema su prenotazione. Il pacco è da 10 kg con dei pezzi misti di tutto il bovino ed eventualmente in base alle richieste del cliente cerchiamo di soddisfare tutte le possibili esigenze. Ma non solo, tu di recente sei anche finita in uno spazio che a noi col diretti piace molto che è il mercato contadino di Campagna Amica in Corso Alessandria 271. Quindi lì hai il tuo banco macelleria, quali sono i giorni e quali gli orari? Allora noi siamo entrati all'interno del mercato di Campagna Amica a inizio novembre come Banco Macelleria e i giorni di apertura sono il mercoledì dalle 9 alle 13.30, il venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato sempre dalle 9 alle 13.30. Allora Cristina, qua siamo nel tuo laboratorio, come avvengono le diverse fasi di lavorazione? Allora praticamente ci arriva il quarto del vitello, qui lo disossiamo, lo sezioniamo, puliamo i vari pezzi e poi a seconda delle prenotazioni in base ai pacchi famiglia facciamo tutti i pacchetti sotto vuoto. Ecco quindi questo tavolo che vedo al centro è proprio il tavolo di lavoro principale, vicino a te c'è un taglio che è un bel coscione diciamo e dopodiché che cosa abbiamo anche lì sotto vuoto? Allora qui abbiamo la macchina sotto vuoto dove praticamente confezioniamo 100% sotto vuoto, la fettatrice, dritta carne e sega ossa. Questo è il nostro pacco famiglia già confezionato, chiuso, sopra ogni pacchetto è indicato il taglio del pezzo e quindi non si resta che andare a mangiarlo, a cucinarlo e a consumarlo ma se io volessi appunto prenotare qualche taglio specifico come devo fare? Allora attraverso i nostri numeri di telefono sia tramite whatsapp, email, ormai in tutte le maniere, tanto ormai siamo evoluti su tutti i fronti e ormai i clienti sanno come funziona, che praticamente ci dicono loro già cosa hanno bisogno e noi li prepariamo già... Quindi o i pacchi famiglia direttamente in azienda, quindi ricordiamo l'allevamento Boda, oppure al mercato contadino di Campagna Amica in corso Alessandria 271 ad Asti, quali giorni? Mercoledì, venerdì e sabato.